Questo programma è offerto da 7 giugno 2014 Buona domenica e benvenuti ai nostri telespettatori per questa nuova edizione del VG8 7 giorni Partiamo subito con la cronaca Una notizia di martedì Nella provinciale 29 un grave incidente Un morto e tre feriti I dettagli nel servizio Provinciale 29 Grave incidente Un morto e tre feriti Tragedia sulle strade siciliane nella notte dove si registra la morte di un trentenne più il ferimento di altre tre persone Lo schianto è avvenuto nella strada provinciale 29 A perdere la vita è stato Giuseppe Gambera La vittima, morta sul colpo era a bordo della sua lancia Y che è andata a schiantarsi contro un'altra auto una Fiat Punto dove si trovavano i tre rimasti feriti La dinamica dell'incidente non risulta ancora chiara ma dei primi rilevamenti si pensa si possa trattare di una distrazione da parte del conducente della lancia Y I sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza i tre feriti nel presidio medico di Militello in Val di Catania Le indagini intanto sono state affidate ai carabinieri Adesso ci spostiamo a Morreale dove gli animalisti finalmente hanno gridato vittoria Guardiamo il servizio della nostra Federica Mansueto Morreale, gli animalisti gridano vittoria Dopo 18 giorni di protesta in piazza e dopo l'occupazione della struttura del comune finalmente gli animalisti capeggiati da Alessio Di Dino cantano vittoria Sembrerebbe infatti che l'azione di occupazione dell'edificio di piazza Vittorio Emanuele ha sortito l'effetto sperato I cuccioli ottengono così giustizia Il comune del paese ha dato vita ad una convenzione con la struttura privata del canile sanitario di Snello struttura a norma e con i giusti requisiti per la permanenza dei cuccioli Gli animalisti e i piccoli pelosi sono in attesa dell'operatore che li preleverà per il ricovero dei dieci randaggi per portarli così nella loro nuova casa dove verranno curati e sottoposti ai vaccini necessari Una volta vaccinati i volontari valuteranno le possibili richieste d'adozione affinché questi piccoli passeranno ad avere una famiglia una casa e tantissimo amore Sempre martedì abbiamo intervistato il dottore Gino Gagliano veterinario bagherese che ha progettato la lotta biologica alla zanzara Guardiamo l'intervista Come nasce questo progetto? Il progetto nasce proprio per la lotta biologica cioè per combattere la zanzara in un certo senso c'è l'utilizzo la lotta biologica in generale è un concetto che utilizza degli antagonisti naturali per combattere un particolare agente patogeno nel nostro caso noi cercheremo di combattere la zanzara interrompendo quello che è il ciclo biologico della zanzara perché avviene a partire dalle uova sviluppa la zanzara attraverso i diversi stati larvali all'interno dell'acqua a livello dell'acqua noi abbiamo la possibilità di utilizzare un antagonista naturale che è un pesce un pesce abbastanza rustico che viene dal Sud America si chiama Gambusia finis e possiamo utilizzare questo pesce perché è particolarmente vorace si nutre delle stesse larve abbiamo progettato questa forma abbiamo impiantato una riproduzione proprio grazie anche all'aiuto del vivaio Eleuterio sito a Ficarazzi sulla statale vicino al cimitero dove abbiamo messo delle vasche per la riproduzione di questo pesce che è altamente prolifico e diciamo abbiamo la possibilità di diffondere questo pesce nelle varie vasche che si trovano nel territorio cioè Gebbie, Stagnetti diciamo che è un'ottima forma di bonifica di quelle vasche cioè si possono introdurre quindi si può andare al vivaio Eleuterio e prendere gratuitamente questi pesci da introdurre in queste vasche in maniera tale che interrompiamo il ciclo della zanzara e siamo certi che se introdotti in quelle vasche da quelle vasche da dove nascono tante zanzare noi possiamo interrompere questo ciclo semplicemente introducendo questo pesce dunque in realtà però bisogna fare molta attenzione all'utilizzo di questo pesce perché è un pesce che se introdotto in un ambiente naturale distrugge quello che è l'ecosistema perché essendo particolarmente vorace può interferire con quelle che sono le specie autoctone quindi io consiglio a tutti coloro che vogliono combattere con noi troverete proprio questo volantino in giro dove combatti anche tu con noi giusto per coinvolgere le persone che devono andare volontariamente a prendere questi pesci da introdurre nelle vasche Quali sono i rischi di questo progetto? I rischi del progetto è l'immissione di questo pesce che è particolarmente vorace verso altre specie in ambienti naturali quindi laghi, fiumi o altro perché possono, non possono sicuramente distruggono quello che è l'ecosistema naturale all'interno dell'ambiente quindi diciamo bisogna fare anche attenzione per questo il vivaio con cui c'è appunto la convenzione prenderà informazione riguardo dove verranno posti questi pesci in quale tipi di vasche e anche un recapito telefonico anche perché in realtà ci sarà uno studio legato a questo progetto in cui sarà coinvolto anche l'istituto zooprofilattico di Palermo e l'Università di Palermo per monitorare l'efficacia e anche gli eventuali problemi che possono scaturire dal progetto stesso con questo progetto vogliamo anche creare una mappatura del territorio e quindi cercare di localizzare quelle zone che sono del tutto scoperte dall'introduzione di questo pesce che si chiama Gambusia Finis A chi è rivolto il progetto? Il progetto è rivolto a tutti quei cittadini che hanno delle raccolte di acqua artificiale che possono essere proprio delle gebbie dei raccoglitori di acqua piovane degli stagnetti in cui le zanzare vanno a depositare le uova e diciamo quei vermicelli che noi vediamo nell'acqua stagnante che si pensa a essere molte persone pensano a essere i girini delle rane in realtà sono le larve dei zanzare quindi diventeranno delle zanzare quindi introducendo questo pesce noi riusciamo a interrompere questo ciclo vitale e quindi limitandone lo sviluppo in ambiente in realtà la lotta biologica si può fare con altri mezzi per esempio il pipistrello o anche l'utilizzo di un batterio che si introduce nell'acqua però questo è il primo passo noi possiamo pensare a uno sviluppo maggiore di questo progetto però come primo passo ho visto che siamo riusciti a riprodurre il pesce nel vivaio e quindi abbiamo la possibilità anche di diffonderlo gratuitamente infatti questa è una cosa che tengo infatti a proposito nel progetto da quali enti siete aiutati? no in realtà diciamo il progetto nasce da una convenzione tra l'ambulatorio veterinario città di Bagheria il vivaio e l'auterio proprio da una collaborazione diretta in realtà vogliamo coinvolgere tutti i comuni nella diffusione di questo messaggio e quindi nel coinvolgimento dei cittadini a collaborare in questo progetto quindi l'obiettivo del progetto qual è? l'obiettivo è quello di non dico di sconfiggere la zanzara perché in realtà la zanzara che è un importante anche vettore di malattie diciamo ricordiamo è vero che il flebotomo giusto nel caso dei cani è una piccola zanzara che diffonde una malattia molto temuta ed endemica nella nostra zona che è la lesmania quindi la lesmaniosi e che in realtà il flebotomo non ha proprio una riproduzione diretta nell'acqua ma in ambienti umidi ma sappiamo che le zanzare in generale possono essere dei vettori di trasmissione di malattie infatti questo progetto spesso viene utilizzato anche in ambienti come l'Africa per esempio in Africa purtroppo in alcune zone non in tutte ma si dovrebbe fare un'attività di lotta biologica in questo senso proprio perché molte malattie quali la malaria sono delle malattie che possono essere combattute con il dimezzamento delle zanzare infatti in realtà diciamo non riusciamo a sconfiggere del tutto le zanzare ma riusciamo a bloccare quelle fonti certe che sono queste vasche di raccolta del territorio di solito sono l'acqua irrigua diciamo è un ottimo metodo anche perché in realtà non si utilizzano dei fattori chimici che vengono introdotti nell'ambiente quindi dei tossici che possono incidere nella salute dell'uomo anche le falde acquifere possono essere... chiediamo alla cittadinanza di una partecipazione attiva al progetto proprio prendere parte al progetto significa recarvi al vivai e all'auterio contattare me all'ambulatorio veterinario città di Bagheria per poter prendere questi pesci e inserirli in questi ambienti artificiali per questo chiediamo una ricca collaborazione da parte della cittadinanza tutta non solo della città di Bagheria e di Ficarazzi ma anche di altri paesi limitrofi in realtà è un progetto che andrebbe stesso a tutta la regione però diciamo cominciamo nella nostra nicchia a produrre un'efficacia reale sulla lotta biologica alla zanzara con la lotta biologica alla zanzara proprio perché dobbiamo in qualche modo contenere lo sviluppo di questo agente che può risultare patogeno in molti casi venite a ritirare gratuitamente questo pesce al vivai e all'auterio anche perché così diventerete parte integrante del progetto una parte attiva del progetto un progetto che continuerà con lo studio del territorio e anche con la posizione di alcune trappole dateci dal coinvolgimento dell'istituto zooprofilattico di Palermo in particolare la dottoressa Torina entomologa dell'istituto zooprofilattico di Palermo che metteremo in alcune zone determinate del territorio per fare un riconoscimento di specie della zanzara e in più una quantificazione quindi pre e post terapia giusto per rimanere in termini medici quindi ripeto venite a prendere il pesce e mettetelo nel vostro stagno adesso una notizia di cronaca di mercoledì a Palermo accusa un malore dopo aver acquistato dell'acqua in un bar il servizio Palermo accusa un malore dopo aver bevuto dell'acqua acquistata al bar è accaduto ieri in corso Calatafimi quando un uomo dopo aver sorseggiato dell'acqua da una bottiglietta appena acquistata in un bar della zona della conigliera accusato un malore un sorso troppo amaro come aver bevuto del veleno dalle prime informazioni pare che non fosse stato praticato alcun foro nella bottiglietta da mezzo litro nel bar sono state trovate altre 10 bottiglie della stessa acqua comprata dall'uomo e i campioni sono stati sequestrati e mandati in laboratorio per le analisi l'acqua di queste bottigliette alla vista non presentava alcuna foratura dell'involucro ma all'olfatto emanava un forte odore di petrolio sul posto sono intervenuti i poliziotti che indagano sulla vicenda e un'ambulanza del 118 in soccorso dell'uomo Bagheria grande successo per la sagra del cibo di strada unti appagati le telecamere di canale 8 come sempre erano presenti guardiamo il servizio Bagheria grande successo per la sagra del cibo di strada unti appagati grande successo per la sagra unti appagati organizzata da Vivere Società Cooperativa Sociale sabato e domenica scorsi in corso Umberto I a Bagheria la sagra dedicata agli appassionati del cibo di strada ha portato nella città delle ville tanti commercianti provenienti da tutta la Sicilia nonché alcuni turisti grande il valore sociale di tale sagra per i cittadini bagheresi i quali oltre al fatto di essere particolarmente legati alle tradizioni agroalimentari del territorio a cui appartengono non vedevano da tempo un evento del genere nella loro cittadina i presenti hanno gustato grandi varietà di cibo di strada preparati dal vivo come panelle, cazzilli, pane con la milza frittola, stigliola, musso e carcagnolo e tanto altro ad intrattenere le due serate a partire dalle ore 19 l'associazione culturale arte e spettacolo a Casson Lus di Bagheria guidata da Alessandro Buttitte e Monica Scalici con le esibizioni di giovani artisti bagheresi i quali Valentina Crescimanni Lorita Clemente e Tyron Lembo io sono consigliere della cooperativa Vivere che è l'organizzatrice dell'evento peraltro ha avuto finanziato la cooperativa Vivere un progetto dal PSR Sicilia e questa è la prima manifestazione del progetto e si occuperà di turismo rurale Mercoledì abbiamo mandato in onda una notizia del nostro Daniele Gerardelli su Villa Abate Bua chiede i conti tornano le funzioni no Villa Abate Bua chiede i conti tornano le funzioni no ieri sera in aula consigliare del comune in un clima di cordiale avversità è stata avanzata l'interrogazione da parte del consigliere Bua sui costi delle funzioni del 15-16 aprile la giunta nella persona dell'assessore Giuseppina Tesauro tramite risposta scritta argomentava le scelte della maggioranza sostenendo l'importanza del valore affettivo socio-culturale delle rappresentazioni oggetto dell'interrogazione la realizzazione delle funzioni hanno coinvolto ben 50 cittadini villabatesi la rappresentazione è costata al bilancio comunale 5.000 euro più 2.000 euro di sponsorizzazioni da parte di privati a difesa delle scelte della maggioranza attuale si legge ancora una citazione delle spese sostenuto dall'amministrazione precedente basti ricordare il concerto di Raff costo 50.000 euro concerto di Gianni Vezosi 6.000 euro gincane varie costo 4.000 euro cada uno parole d'apprezzamento invece sono state spese per le varie realtà associative e territoriale prima tra tutte Arche che si è preso l'onere dell'organizzazione delle funzioni ed ancora per gli scout io amo Villabate Pomara 2001 verso Pai e Eida le associazioni sportive si legge ancora i 7.000 euro complensivi sono stati impegnati per il service audio video luci per due giorni in noleggio palco 8x12 metri per due giorni allestimento quinte sceniche nei giorni 15 e 16 aprile proiezione delle scenografie su maxi schermo e microfoni con archetti per una ventina di attori e tanti altri dettagli tecnici salve a tutti sono qui per dare una comunicazione importante che vi riguarda e che ci riguarda da giorno 15 maggio in diretta da canale 8 Palermo un nuovo programma della buona musica partenopea ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri il programma Napoliè che naturalmente ospiterà anche tantissimi artisti della buona musica seguiteci numerosissimi studio a condurre tutto la vostra amica Virginia Puzzi, vai via stai zitto dammi i compiti ti ho fatti bene, vero? dammi la merenda la voglio tutta sparisci sparisci il microbo abbassa la cresta e usa la testa e usa la testa ben rientrati in studio adesso un'importante notizia arrivata a giovedì Bagheria operazione Reset ha zerato il mandamento mafioso il servizio Bagheria operazione Reset ha zerato il mandamento mafioso dalle prime luci dell'alba 500 carabinieri del comando provinciale di Palermo al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla locale DDA sono impegnati nell'esecuzione di 31 fermi del PM nei confronti di capi e gregari del mandamento mafioso di Bagheria ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso omicidio sequestro di persona estorsione rapina detenzione illecita di armi da fuoco e danneggiamento a seguito di incendio completamente disarticolato il mandamento di Bagheria storica roccaforte di Cosa Nostra insieme ai reggenti dell'ultimo decennio del mandamento e delle famiglie mafiose di Bagheria Villa Abate Ficarazzi Altavilla Milica sono stati tratti in arresto pericolosi uomini d'onore della consorteria le investigazioni in particolare hanno consentito sia di documentare l'esistenza di un direttorio un organo decisionale provinciale sia di accertare l'esistenza all'interno della consorteria di un vertice strategico in gergo la testa dell'acqua al quale doveva obbedienza anche il reggente operativo del mandamento sono stati inoltre identificati gli esecutori materiali dell'omicidio di Antonino Canu consumato a Caccamo il 27 gennaio 2006 e del tentato omicidio di Nincascio Salerno avvenuto a Caccamo il 23 agosto 2005 le acquisizioni raccolte hanno infine consentito di documentare ben 44 estorsioni 4 danneggiamenti a seguito di incendio una rapina e una tentata rapina 4 progetti di rapina sventati grazie all'intervento preventivo dei carabinieri adesso una notizia a livello nazionale benzina sciopero per un giugno di fuoco benzina sciopero nazionale per un giugno di fuoco allarme per tutti gli automobilisti italiani che dovranno essere pronti a giorni di fuoco lo sciopero prenderà vita dal 14 fino al 18 giugno 4 saranno i giorni in cui le macchinette self service resteranno inattive mentre il 18 chiuderanno completamente gli impianti la serrata scatterà anche per i rifornimenti in autostrada l'agitazione per i carburanti non si fermerà il 18 giugno dalla mezzanotte del 21 infatti ci sarà un altro giorno di fuoco con un nuovo stop per gli automobilisti ritorniamo a Villa Abate infatti web amiamo o cambiamo Villa Abate la risposta di Valerio Pietra Perzia web amiamo o cambiamo Villa Abate Valerio Pietra Perzia risponde in seguito al servizio mandato in onda nell'edizione di ieri su facebook e in varie pagine sono esplose polemiche gli amministratori di Cambiamo Villa Abate continuano a tacere restare avvolti in un alone di mistero ma gli amministratori di Iomo Villa Abate no infatti hanno potuto dire la loro tramite uno dei suoi amministratori storici Valerio Pietra Perzia sono il presidente dell'associazione Io amo Villa Abate in riferimento agli ultimi avvenimenti sul social network che adesso se ne sta parlando anche in giro noi in qualità di presidente dell'associazione vorremmo fare una dichiarazione in merito alla nuova costituzione del gruppo Cambiamo Villa Abate per quanto riguarda il gruppo appunto Cambiamo Villa Abate noi prendiamo le distanze nessuno dei nostri componenti quindi del nostro direttivo ne fa parte tra l'altro noi siamo anche come dire siamo un pochettino in difficoltà in quanto hanno chiesto praticamente di entrare in contatto con molti dei nostri associati molti dei nostri iscritti che chiaramente hanno accettato appunto di far parte di questo nuovo gruppo e all'oscuro di tutto quello che ne comporta diciamo appunto entrare e far parte di questo gruppo noi abbiamo chiesto a loro di uscire allo scoperto di farsi riconoscere di capire con chi abbiamo a che fare e tra l'altro loro con degli slogan così un pochettino diciamo possono apparire molto possono apparire molto così di impatto vogliono cambiare Villa Abate noi appunto abbiamo chiesto di conoscere un po' i componenti ma loro non preferiscono al momento rimanere allo scoperto quello che vogliamo dire noi in qualità di associazione chiamo Villa Abate è appunto che noi manteniamo le distanze con questo gruppo e tra l'altro noi perché ci conosce ha più di due anni che siamo attivi sul territorio villabatese addirittura due anni e qualche mese abbiamo più di 2500 iscritti sul nostro gruppo di cui 100 tesserati ufficialmente per l'anno 2014 quindi appunto a tutti i nostri iscritti a tutti i nostri amici il gruppo Cambiamo Villa Abate non è riconducibile a noi Parliamo di un altro evento dove le telecamere di Canale 8 erano presenti Palermo chi dice cultura dice Sicilia Palermo chi dice cultura pensa Sicilia ieri sera a Palermo le telecamere di Canale 8 hanno seguito la conferenza stampa dell'artista di fama mondiale Elisa Martorana che ha presentato il progetto Two Days of Sicily presso il dopolavoro ferroviario in Viano Tar Bartolo a Palermo a presenziare l'evento anche i rappresentanti del DLF Palermo e il gruppo musicale dei Yarmish sono veramente onorata soddisfatta lo dico lo ribadisco perché credo che rappresentare la propria terra all'estero e senza dire grazie a nessuno tranne un'associazione che è Sicilia in Europa devo dire sia veramente creato un successo per chiunque vuole vivere di cultura non so cosa il futuro mi riservi però devo dire solamente entusiasta sono felice di dare un contributo con la mia creatività e la mia terra quindi spero che finalmente la Sicilia continui a fiorire e a produrre soltanto cose belle che partono dall'arte dalla cultura dalla musica e dimostriamo al mondo che siamo persone capaci non è una frase tanto per retorica ma non mollare mai cioè io dal momento in cui ho capito che volevo fare questo l'ho sempre fatto e lo testimono sempre quando mi chiedono i consigli non ci sono consigli l'unico consiglio può essere intanto studiare perché essere bravi e avere idee e non studiare è fino a se stesso ci possono essere le celle le chicche però è giusto studiare ma per il resto se credi in qualcosa continua a bussare le porte prima o poi uno spiraglino si aprirà poi io ho chiesto un consiglio anni fa a Sgarbi che venne a Bagheria per presentare il suo libro l'idea di delle cose ero veramente ancora una studentessa e lui mi disse continua a rompere le scatole e io lo sto facendo chi dice cultura pensa a Sicilia ma con la piscina e chi sta avanti a mani come un piscina non li venia non lo sappia nessuno forse era picchi utile o te un'ittuno intorno a color o te un'ittura e chi ci chiamare e cola di rumari curri e veni o cola luma e regno scandaghiari sopra chi fidamento si sostiene con la piscina si furri e va ma e torno ma e sta con la piscina si furri e va ma e torno ma e sta ritorniamo alla cronaca notizia di venerdì è morto il meccanico che si bruciò lavorando a vittoria palermo è morto il meccanico che si bruciò lavorando a vittoria si è spento la scorsa mattina il meccanico 63enne Carmelo Albani che la sera del 27 maggio scorso aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado in gran parte del corpo in particolare sul viso le fiamme erano state provocate dallo scoppio della pompa della benzina nel garage dove lavorava in via Vicenza a Vittoria l'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Vittoria a quello di Catania per poi giungere al centro grandi ustionati a Palermo dove però non ce l'ha fatta Ficarazzi ancora problemi dopo il divieto di transito i dettagli nel servizio Ficarazzi ancora problemi dopo il divieto di transito dopo la decisione unilaterale presa dal comune di Ficarazzi che lo scorso 2 aprile ha stabilito il divieto al transito veicolare ai mezzi pesanti superiore alle 5 tonnellate sul tratto della statale 113 che attraverso il comune di Ficarazzi corso Umberto I molti sono i furbetti che aggirano all'ostacolo del divieto passando per la via Meli così da ritrovarsi sulla strada per Bagheria dopo il cimitero ma ieri pomeriggio intorno alle 15 i tre mezzi pesanti hanno dato nell'occhio bloccando l'incrocio tra la via Meli e la via Alcide dei Gasperi i residenti dunque si lamentano ricordando che anche la via Meli un tempo era divieto d'accesso e chiedono alle autorità competenti un maggiore controllo con interventi immediati e più decisivi Venerdì la redazione di Canale 8 ha intervistato Carmelo Pantano amministratore del sito Ficarazzi Blog e ideatore della raccolta tappi guardiamo insieme l'intervista Come inizia questa raccolta e qual è lo scopo? La raccolta tappi per beneficenza è nata tutto si può dire per gioco un po' cercando su internet abbiamo trovato che nel passato diverse raccolte tappi si sono rilevate rivelate delle vere e proprie bufale in quanto molti hanno fatto delle promesse che in cambio dei tappi si potevano regalare delle carrozzine a persone portatori di handicap ma pochissime sono state le realtà che hanno portato a compimento questo tipo di atto di beneficenza noi di Ficarazzi Blog insieme ai ragazzi che fanno parte dell'associazione Amici Siciliani abbiamo messo in piedi questa raccolta tappi che ha voluto un pochettino ospidare quello che erano le credenze popolari che in quanto dato che in passato non si era fatto mai niente con questa raccolta tappi abbiamo cercato di poter sfatare questo velo che si è andato a creare su questo tipo di iniziative ebbene abbiamo lanciato questa raccolta tappi abbiamo fatto la prima uscita il 6 di aprile davanti il sagrato della chiesa Sant'Atanasio e abbiamo già raccolto soltanto con quell'uscita ben 60 kg di tappi come funziona il tutto all'inizio abbiamo pensato di dare in beneficenza il ricavato da questa raccolta a delle missioni caritatevoli che si trovavano in Congo poi sotto sollecitazione di diversi concittadini che stanno collaborando con la raccolta tappi abbiamo pensato sì è vero dobbiamo essere vicini a coloro che sono lontani come i bambini del Congo i bambini del Sud Africa perché non fare qualcosa e raccogliere qualcosa per le per le diciamo quelle associazioni che si muovono nel nostro territorio nel locale e quindi dare una mano a quelle associazioni che del sociale si trovano qui nel nostro territorio nel nostro circondario dopo la prima uscita tappi siamo riusciti a diciamo a prendere a stabilire quali potevano essere le associazioni che avevano più bisogno tra le tante abbiamo scelto la Cala Onlus Cala Onlus è una ludoteca vera e propria creata per i bambini extracomunitari e bambini come sappiamo gli extracomunitari arrivano in Italia e specialmente qua in Sicilia in tutti i periodi dell'anno quindi non c'è una scuola pubblica o un asilo che li può ricevere in qualsiasi periodo dell'anno Cala Onlus si fa carico di questo cosa succede? arrivano questi bambini extracomunitari in qualsiasi momento il papà e la mamma di questi bambini si presentano da Cala Onlus che è il tutore del bambino loro lo ricevono e lo prendono in carico gli danno assistenza quasi 24 ore al giorno dandogli da mangiare dandogli dei vestiti dandogli un'educazione facendole crescere e farli socializzare con altri bambini perché Cala Onlus si trova all'interno della Ballarò e sappiamo benissimo che il mercato della Ballarò non vive non ha una vita sociale delle più favorevoli quando si tratta di beneficenza dobbiamo essere il più trasparenti possibili perché non voglio che nessuno possa le dicerie si sa e quando ci sono questi tipi dice quanto è il guadagno quanto è in tasca l'associazione l'associazione non intascherà nulla perché noi nel momento in cui la società che si occupa del recupero dei tappi e quindi per portarli a riciclare ci darà un formulario nel formulario verrà indicato quanti chili di tappi abbiamo noi conferito al riciclo e a quanto ce lo pagheranno lo stesso ricavato per l'importo che poi noi pubblicheremo direttamente la copia del formulario il ricavato che avremo noi da parte della società del recupero e smaltimento che poi il tappo è un rifiuto e noi lo gireremo direttamente alla Cala Ollus inoltre tengo a precisare che oltre alla raccolta tappi per aiutare proprio Cala Ollus tramite amici siciliani e tramite altri sostenitori del blog stiamo riuscendo anche a dare e omaggiare la Cala Ollus di salviettini per bambini salviettine umidificate per bimbi pannolini c'è chi è stato che ha portato proprio dei medicinali per bambini e di questo ringraziamo tuteliamoci che è un'associazione di Palermo che ci ha dato dei farmaci per bambini che hanno potuto utilizzare lì all'interno di Cala Ollus e poi chiediamo a tutti coloro che stanno seguendo questa trasmissione di se potete in qualsiasi modo poter collaborare con noi dandoci tutto quello che può essere utile ai bambini da 0 fino a 12 anni voglio dire passeggini sediolini per auto abiti scarpe e tutto quello che può essere utile a un bambino ognuno di noi a casa abbiamo un nipotino un figlio un cuginetto magari gli abiti che non vengono più li possiamo donare se non servono ad altri della nostra famiglia li possiamo regalare a questi bambini che credetemi ne hanno tanto bisogno noi quando siamo usciti con la prima raccolta con la prima giornata di raccolta fino ad ora abbiamo avuto la collaborazione dell'attuale amministrazione comunale nella persona di Paolo Martorano il nostro sindaco lui intanto ci ha messo a disposizione il fusto diciamo è un gesto simbolico perché effettivamente noi all'amministrazione non stiamo chiedendo nulla e non vogliamo nulla anche perché stiamo facendo proprio una raccolta di beneficenze e nessuno deve uscire una lira un euro a questo punto perché la lira ormai è defunta l'amministrazione ci ha messo a disposizione un fusto che noi quando avremo le uscite man mano si va riempendo metteremo i tappi in dei sacchi di plastica e li metteremo di lato cosa succede? è nato prima di tutto per cercare di stimolare anche i nostri bambini cerchiamo di imparare ai nostri bambini che anche il tappo di plastica che è un rifiuto può essere trasformato in qualcosa di bello in questo caso per noi è trasformato in un gesto d'amore verso questi bambini però dobbiamo capire che tanti tappi di plastica diciamo in mezza giornata lanciato diciamo l'evento per il 6 di aprile è stato lanciato soltanto in 10 giorni abbiamo raccimolato quasi 60 kg di tappi e non tutti ne erano informati ora da quando dal 6 aprile ad oggi le persone che ormai sanno che noi facciamo questo tipo di raccolta ci chiamano ci mandano messaggi sms ora abbiamo pure whatsapp e cerchiamo di tenere informati i nostri utenti ci mandano ripetutamente settimanalmente sacchi interi di plastica fate il conto che dal 6 aprile ad oggi siamo arrivati a quasi 300 kg di tappi non saranno delle cirfe elevate perché la ditta che ci pagherà il conferimento lo pagherà a 0,15 centesimi di euro al chilo però diciamo nell'arco di un anno mettete 1000 kg saranno 150 euro per molti saranno pochissimi spiccioli però per un'associazione come quella di Calaolus che ha bisogno quei 150 euro possono servire anche per continuare la loro attività io per esempio sono papata di due bambini cerco di trasmettere questo loro facendo capire che oltre che a dare quest'amore per il prossimo se hai qualcosa che puoi donare donalo con tutto il cuore e non pensare se lo devi fare o no se quella persona ha bisogno fallo vedrai che il bene ti verrà ricompensato però secondo fine quello del riciclare è per cercare di dare a questi bambini degli strumenti delle opportunità per poter riciclare per oggi domani almeno sperare di avere un ambiente un'aria un pochettino più pulita e un pochettino più gradevole di quella che abbiamo noi ora perché se ad oggi abbiamo un ambiente così sporco i colpevoli siamo soltanto noi in primo io la raccolta dei tappi non è soltanto limitata al paese di Ficarazzi infatti prima cosa abbiamo creato una pagina Facebook se andate su Facebook troverete tranquillamente la raccolta tappi di plastica abbiamo creato un gruppo Whatsapp dove chi liberamente lo vuole fare può inviarci con un SMS o un messaggio Facebook il proprio numero il proprio recapito di cellulare se è su Whatsapp noi lo inseriremo nel gruppo e sarei informati di tutti gli eventi il prossimo evento sarà domenica 8 giugno dalle ore 9 alle ore 12 e 30 ci troveremo all'interno del Parco Robinson vi aspettiamo e ricordatevi un tappo lo slogan della nostra corte è un tappo uguale a un sorriso non vi costa nulla tra di voi amici parenti colleghi e anche i compagnetti di scuola anche se mettiamo da parte la sera i tappi delle bottiglie di plastica che abbiamo a tavola dopo che finiscono e li mettiamo in un sacchettino e li raggruppiamo facendo gruppo si fanno le quantità questo è lo questo diciamo è lo scopo della nostra raccolta se noi facciamo gruppo e cerchiamo di collaborare uno con l'altro per questa benedetta raccolta di tappi di plastica vedrete che non solo Ficarazzi ma tutti coloro che stanno collaborando avremo grandi soddisfazioni di qua a fine anno un'ultima cosa e volevo ringraziare oltre Canale 8 che mi sta dando la possibilità di poter dare voce a Ficarazzi Blog e fare sapere a più gente possibile dato che la trasmissione viene eseguita voglio ringraziare come idea come idea è la società di grafica pubblicitaria che ci sta permettendo di poter distribuire tutto quello che è volantinaggio cartelloni locandine e proprio per queste manifestazioni che si stanno svolgendo li ringraziamo perché lo stanno facendo soltanto a titolo gratuito e non hanno voluto nulla da noi dato che si tratta di un atto di beneficenza si conclude con una triste notizia il fine settimana infatti a Misilmeri è morto un operaio schiacciato da un escavatore il servizio Misilmeri muore operaio schiacciato da un escavatore tragedia a piano stoppa una frazione di Misilmeri nel Palermitano dove un giovane operaio Francesco Bisconti ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori per lo scavo del Pozzo Nero pertinente ad un complesso residenziale l'operaio che si trovava insieme ad alcuni colleghi è precipitato all'interno della fossa con il mezzo su cui si trovava non è ancora chiaro se per uno smottamento del terreno o per una manovra errata con la pala meccanica per recuperare il corpo senza vita dell'uomo sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco sul posto anche i carabinieri di Misilmeri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente Ficarazzi al via le giornate file le telecamere di Canale 8 erano presenti con il nostro Fabrizio Passalacqua Ficarazzi al via le giornate FAI Ficarazzi fra storia monumenti e cultura questo è stato lo slogan promosso dal FAI Fondo Ambiente Italiano per le giornate appartenenti al progetto finalizzato a promuovere l'interesse per il patrimonio storico artistico culturale del comune di Ficarazzi i veri protagonisti di queste due giornate sono stati i bambini delle classi terza e quarta della scuola elementare Francesco Paolo Tesauro sistema difensivo di avvistamento e di comunicazione lungo la fascia costiera del reno di Sicilia furono costruite per controllare e prevenire le incursioni di corsari e pirati tra Bia Torre di San Nicolò non faceva parte della difesa della costa ma forse era d'uso privato agrivo residenziale pregevoli cantonali in pietra d'aspra i ricordi delle finestre ancora visibili le menzioni del ricorditoio erano mai distrutte le piccole fessure si buttava pece acqua bollente ma anche pietre la torre potrebbe diventare un caffè letteraio per trascorrere un po' di tempo libero in compagnia di un bel libro abbiamo pensato di trasformare la torre in uno spazio destinato l'attività di pet therapy o ipoterapia i veri e propri ciceroni hanno accolto i turisti e l'autorità e descritto con minuziosa cura la storia e le curiosità dei tre monumenti il castello giardina l'acquedotto e la torre cordova sono state le guest star della giornata con le tante autorità che hanno presenziato l'evento dall'assessore alla cultura Giovanni Gellombardo al sindaco Paolo Francesco Martorana dal comandante Filippo Oliveri fino a Vincenzo Monteleone noi di Canale 8 abbiamo raccolto le loro dichiarazioni siamo a Ficarazzi oggi la giornata del FAI tanti monumenti da scoprire Torre Cordova il castello giardina e naturalmente l'acquedotto allora Presidente ci parli di questa iniziativa di oggi del FAI quindi il FAI sta cercando diciamo di recuperare il patrimonio architettonico che c'è qua a Ficarazzi e oggi siamo a Torre Cordova dove i ragazzi hanno i bambini della terza elementare hanno cercato di impiegare il loro tempo preparando dei cartelloni dove mostrano lo scopo diciamo che potrebbe avere la torre dove ci troviamo oggi loro hanno pensato di poterla recuperare organizzando dei corsi di pet therapy o di ipoterapia visto e considerato che qua c'è lo spazio per poterli fare hanno preparato come ho detto dei cartelloni e altre immagini della torre come era diciamo nel passato e come è oggi i bambini hanno preparato anche delle 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 piccole diciamo spiegazioni dove descrivono la storia della torre a chi diciamo vorrà venire in giornata a conoscere questo uno dei monumenti di Figarazzi anche per noi i genitori è stata una bella esperienza anche per i nostri figli venendo qua abbiamo scoperto appunto che qua a Figarazzi abbiamo questa torre che si chiama Torre Cordova è un signore che abita qua da molti anni ci ha raccontato che oltre a esserci questa torre c'è a quanto pare sotto sotterranea c'è una stanza segreta che questo signore giustamente lo sa perché suo padre gliene ha sempre parlato e questo signore appunto ci ha convinti insomma di dire a qualche archeologo che sarebbe disposto insomma a venire qua diciamo a far riscoprire nuovamente tutte queste bellezze che insomma abbiamo qua in Sicilia e a tirar fuori questa questa nuova stanza che a quanto pare gli raccontava il papà che era una stanza con delle tavole in pietra con delle sedie in pietra che non si sa per quale scopo la insomma venne fatta una giornata straordinaria piena di gente soprattutto un successo della scuola Francesco Pato Tesauro che in collaborazione col comune di Ficarazzi ha organizzato un'intera giornata dedicata alla cultura e alle tradizioni del nostro paese abbiamo riscoperto dei monumenti che in questo periodo erano un po' caduti dal dimenticatoio ma oggi con questa grande manifestazione siamo riusciti ad ottenere qualcosa che nessuno prima di noi aveva riuscito ad ottenere è una giornata storica direi per il comune di Ficarazzi credo che sia la prima volta che venga data la possibilità alla cittadinanza ai turisti di conoscere quelle che sono delle bellezze del territorio che giornalmente non è possibile visitare quindi un plauso veramente forte all'assessore Giallombardo all'amministrazione che sta dando questa possibilità che emozione si prova oggi? è una giornata veramente ricca di storia di cultura la storia e la cultura del paese di Ficarazzi oggi sono presenti anche i volontari del FAI grazie al protocollo d'intesa che è stato stipulato tra la scuola e il comune di Ficarazzi e il FAI nella persona della professoressa Cedrini che si è impegnata personalmente anche per la buona riuscita di questa giornata mandandoci i loro volontari i bambini hanno studiato i monumenti per diversi mesi e li hanno fatti propri e adesso colgono il risultato di questi mesi di impegno e di studio la giornata è intitolata i piccoli ciceroni aprono la città e devo dire che grazie al contributo dell'amministrazione comunale la figura dell'assessore Gian Lombardo ma in primis del sindaco e di tutte le maestranze e le professionalità del comune siamo riusciti a strappare per tre giorni tra virgolette diciamo un po' al degrado diciamo in cui alcuni monumenti versano soprattutto Torre Cordova per riconsegnarli ai nostri alunni e soprattutto alla cittadinanza di Ficarazzi Signor sindaco oggi un orgoglio per Ficarazzi ospitare la giornata del FAI? È un orgoglio è uno dei sogni che si avvera noi abbiamo cominciato a lavorare con il FAI nel 2005 quando acquistammo Villa Merlo è stata però un'iniziativa un po' fine a se stessa perché l'abbiamo realizzata soltanto quell'anno poi abbiamo perso un po' i collegamenti con la mia amministrazione grazie al lavoro delle scuole del preside Mario Veca dell'ottimo assessore Giovanni Gian Lombardo abbiamo creato una collaborazione siamo parte di un progetto di un protocollo di intesa e oggi abbiamo ieri e oggi abbiamo aperto le porte della nostra comunità alla cultura alla cultura intesa come conoscenza dei luoghi conoscenza della storia noi abbiamo la mia generazione ha vissuto alla presenza del castello degli acquedotti della torre Cordova di Villa Merlo ma nessuno di noi conosceva la storia intima il percorso anche così ideologico e territoriale che questi monumenti avevano seguito i nostri bambini oggi ci fanno da ciceroni si sono preparati in questi ultimi due mesi hanno conosciuto la storia e l'hanno divulgata al nostro territorio oggi con grande diciamo piacere vedo persone che da Palermo hanno raggiunto Ficarazzi per conoscere le bellezze dei nostri del nostro territorio e avere quelle pillole di storia di ogni monumento la protezione civile ha svolto un ruolo principale in questa giornata ce ne parli? Prima sicuramente il mantenimento di un minimo di sicurezza perché ci sono delle zone un po' impervie tipo il ponte diciamo l'acquedotto anche qui la situazione delle migliori per quanto riguarda l'agibilità della torre Cordova e poi l'altro è quello della tutela dell'ambiente e dei beni architettonici altro incarico che abbiamo come protezione civile cioè quello della tutela dell'ambiente noi non ci occupiamo soltanto della salvaguardia delle popolazioni in caso di calamità ma anche del rispetto dell'ambiente della tutela dell'ambiente e dei beni architettonici e culturali del nostro territorio Un ringraziamento va soprattutto a coloro i quali ci hanno aiutato e hanno contribuito a realizzare la giornata odierna in particolare alla protezione civile ai vigili urbani nonché ai volontari del servizio civile e anche del lavoro rosa che hanno lavorato per circa 30 giorni per rendere fruibili i monumenti e soprattutto per dare la possibilità ai bambini di utilizzare il nostro territorio un plasio particolare va a un volontario speciale che sta a tutti a cuore che è il signor Andrea Alfano che ha veramente contribuito tantissimo in realizzazione della giornata odierna grazie a loro Catania Etna Comics Festival internazionale del fumetto e della cultura pop La quarta edizione di Etna Comics Festival internazionale del fumetto e della cultura pop si è svolta al centro fieristico Le Ciminiere di Catania dal 6 all'8 giugno 2014 La manifestazione conosciuta come il più grande festival del sud Italia rappresenta da tre anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti cinema cinema d'animazione gioco e videogioco ma anche musica collezionismo spettacolo cultura tradizionale giapponesa e tanto altro ancora che arricchiscono il succoso programma dell'evento rendendolo un'esperienza unica anche per i più fedeli abituai delle convention italiane di settore All'evento abbiamo intervistato Cristina D'Avena e il disegnatore di Diabolic Giuseppe Palumbo Cristina D'Avena le tue sensazioni nel tornare qui a Catania all'Etna Comics dopo due anni Ma guarda meraviglioso perché voi siete meravigliosi il pubblico di Catania è un pubblico caldo un pubblico bello vivo emozionante mi piace mi piace moltissimo a parte il panorama che stamattina mi sono svegliata mamma mia questo sole meraviglioso questo mare splendido però è proprio quello che si percepisce ad esempio in questa manifestazione l'Etna Comics è una manifestazione ricca di emozioni e quindi io ne faccio parte mi emoziono e faccio a mia volta emozionare quindi è molto bello l'anno scorso in un'intervista hai detto che ascoltando Cristina tutti torniamo a essere Peter Pan ecco ma cosa hanno di magico le canzoni dei cartoni animati che accomunano tutti ma io credo che proprio perché sono i cartoni animati e sono le sigle dei cartoni che noi abbiamo visto da piccoli automaticamente appena tu canti quella sigla ti ti va proprio a toccare quella corda sottilissima che noi abbiamo dentro il cuore questo filo sottilissimo che appena vibra ci fa emozionare e sono le sensazioni delle canzoni quando guardiamo una foto quando guardiamo un vecchio telefilm quello che noi abbiamo visto da piccoli che automaticamente appena vibra ci fa emozionare quindi è normale che chi è legato a Giorgi chi è legato a Chismilicia o chi è legato a Johnny o chi è legato a tanti altri cartoni appena te le canti ti emozioni non c'è niente da fare mi sono emozionata io a cantare le canzoni magari di artisti quando ero piccola che io amavo ad esempio io ho amato tantissimo Dalla e quando canto le canzoni di Lucio Dalla poi io lo conoscevo io mi emozionavo perché faceva parte di me perché da ragazzina io ascoltavo tantissimo Lucio quindi è normale che accada questo sono magiche le canzoni dei cartoni sono magiche e continuate a sognare non smettete mai promesso ciao Giuseppe Palumbo disegnatore di uno dei personaggi dei fumetti più amati dagli italiani se così possiamo dire Diabolic come nasce questa passione intanto nel disegnare sono caduto nella pentola da piccolo come Obelix infatti si vede anche dalla stazza ma no è una passione che coltivo da appunto da ragazzino da appassionato lettore di fumetti fino a diventarne poi autore con Diabolic è stato un amore nato 15 anni fa ormai quando mi chiamarono per assolvere un compito abbastanza difficile diciamo di quelli che fanno tremare i polsi cioè quello di ridisegnare il primo numero della serie di Diabolic che se pensiamo che il primo numero ormai è stato ristampato non so in quante non so quante edizioni abbiano mai tirato quanto abbia contato nell'immaginario collettivo degli italiani insomma ecco quando mi hanno fatto questa proposta per me è stata come andare a giocare in nazionale insomma per un calciatore e nonostante che avessi già avuto delle belle esperienze ecco aver che ne so disegnato Martimister per esempio o ai miei esordi aver inventato un personaggio su una rivista storica come Frigider con il mio appunto il mio personaggio Ramarro il primo supereroe masochista e da 15 anni disegno le storie del passato dei personaggi di Diabolic quindi sono degli speciali come degli enormi flashback che io disegno fino ad arrivare all'anno scorso quando abbiamo addirittura varato una nuova versione di Diabolic che si chiama DK che è veramente una riscrittura del personaggio e dei comprimari della serie per intercettare probabilmente un nuovo pubblico visto che riteniamo che il personaggio di Diabolic con questa sua idea pop che lo nutre alle spalle possa possa aspirare a raggiungere un pubblico completamente nuovo e allora ne abbiamo dato una versione che richiama il vecchio personaggio ma lo rinnova completamente quindi cercando un pubblico completamente diverso e qui all'Etna Comics incontriamo anche qualche personaggio ad esempio chi abbiamo? io sono Ariel in un original pin up e qui abbiamo un Venom nella versione di Flash Thompson Flash Thompson non lo sentiamo perché poverino in questo momento si sta facendo una sauna sono chiuso qua sotto il simbiote mi ha ingroblato ma quindi è un costume che hai inventato tu? sì è un original ispirato comunque anche a delle immagini che ho visto su Deviantart che è un sito dove la maggior parte delle persone fanno dei loro abbozzi appunto sul loro personaggio preferito essenzialmente e il primo anno a Etna Comics è venito ogni anno no no io ogni anno e fra l'altro lavoro anche qui come master di gioco di ruolo dal vivo e qui a Etna Comics ha anche i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie una battuta ragazzi chi sei tu? buon compleanno a me a te ciao Alice ciao stregato sparisci? anche per questa domenica termina qui il VG8 7 giorni contenitore dell'informazione più importante della settimana vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione guardarci in streaming sul sito www.canale8.tk o sul nostro canale Youtube canale 8 Palermo dopo di me il meteo vi auguro nuovamente una buona domenica www.canale8.com questo programma è offerto da Antonio Sanò direttore fondatore del sito www.ilmeteo.it auguro a tutti voi una buona e calda domenica previsioni per l'8 giugno l'occhio infuocato dell'anticiclone ciclope fa bollire tutta Italia con tanto sole e temperature che schizzano oltre i 32 gradi ecco il dettaglio al nord avremo una splendida giornata soleggiata su gran parte delle regioni con un ampio soleggiamento ed un cielo che sarà sereno ovunque rari piovaschi potranno interessare le alpi lombarde clima estivo spostiamoci al centro dove anche qui il tempo sarà veramente ottimo l'anticiclone ciclope porta tanto sole un cielo sereno su tutti i settori tanto caldo a Roma e a Firenze raggiungiamo infine le regioni meridionali dove le condizioni del tempo vediamo non mutano anche nel meraviglioso sud il cielo sarà prevalentemente soleggiato con un cielo praticamente sereno o localmente poco nuvoloso caldo estivo i venti soffiano tutti debolmente dai quadranti settentrionali ecco le temperature per questa bellissima domenica minimi in aumento su tutte le regioni con valori che saranno compresi tra i 17 e i 22 gradi su tutte le regioni durante il giorno farà tanto caldo 30-35 gradi al nord 26-34 gradi al centro con punte pensate di 35 gradi a Roma e tra 26 e 35 gradi al sud carissimi l'aggiornamento termina qui il caldo di ciclope continuerà anche nei prossimi giorni ci porterà finalmente nella nuova stagione seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it il sito che ti porta il sole a casa buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è l'8 giugno si ricorda San Medardo il nome Medardo trae la sua origine dal germanico mat forza possanza e hard coraggioso valoroso latinizzato in Medardus significa valoroso per la sua forza dice il proverbio se la luna avviene i primi dieci di non è di quel mese lì sono nati oggi Luigi Comencini Sonia Braga Andrea Casiraghi l'8 giugno del 632 secondo la tradizione sarebbe il giorno della morte di Maometto fondatore e profeta dell'Islam nel 1987 nasce Telefono Azzurro con lo scopo di proteggere i diritti dell'infanzia dando alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso infine l'8 giugno 1993 il Giappone è in festa per le imminenti nozze del principe ereditario Naruhito con la borghese Masako diplomatica laureata ad Oxford Paolo Borsellino ha detto chi ha paura muore ogni giorno chi non ha paura muore una volta sola arrivederci da Barba Nera dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia ben trovati ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera l'almanacco italiano dal 1762 domenica 8 giugno ariete con la luna parcheggiata in bilancia i soliti problemi tornano a farsi sentire per fortuna è domenica la scarsa produttività passa inosservata la settimana si chiude con una nota di malinconia e disagio ma da lunedì il vento cambierà Toro se vi viene offerto il ruolo di leader non lasciatevi scappare l'occasione troppo spesso giocate un ruolo subalterno restando nell'ombra è venuto il momento di mettere alla prova il vostro carisma e di chiedere maggior spazio di manovra Gemelli anche oggi il cielo rivela ottime prospettive con i trigoni di luna e Marte l'energia non manca e nemmeno l'equilibrio per sfruttarla al meglio c'è anche lo spazio per iniziare nuovi discorsi importanti in famiglia o in chiave professionale Cancro la luna in bilancia sembra un'invenzione fatta apposta per complicarvi la giornata specie se appoggiata nell'intento da un giove funesto una sequela di contrattempi che non riuscite ad evitare vi fa perdere un mare di tempo prezioso Leone la luna in bilancia porta un po' di positività potreste approfittarne per chiarire quel malinteso che è rimasto in sospeso con un amico fatevi ambasciatori di pace muovendo il primo passo verso la riconciliazione ve ne godrete il merito Vergine la routine che vi circonda inizia a pesare ma oggi è una grande occasione per concedervi una giornata diversa che spezzi la monotonia se il tempo lo permette sfruttate il pomeriggio libero per una passeggiata in mezzo alla natura Bilancia la luna congiunta a Marte accresce le vostre doti naturali dovrete usare tanta pazienza per resistere agli attacchi di giove in quadratura ago della bilancia sarà il sole in trigono dal cielo dei gemelli un aiuto fondamentale per vincere Scorpione non diventate schiavi dei desideri le soddisfazioni inaspettate sono quelle che fanno più piacere ma al tempo stesso non potete lamentarvi avete già molto rilassatevi se non volete apparire avidi ed incapaci di godervi le vostre fortune Sagittario la luna in bilancia ha il potere di tirare a lucido l'umore facendolo risplendere in fatto di contatti a fare amore siete a cavallo grazie al se stile di Marte poi potete contare sul vostro innegabile carisma e su un'immagine vincente Capricorno la luna in bilancia in quadratura a Plutone nel vostro segno vi rende particolarmente impulsivi e intolleranti non esasperate le situazioni nella redazione di coppia anche il minimo problema rischia di trasformarsi in un vero conflitto Aquario un seducente trigono della luna in bilancia rilancia il desiderio di equilibrio anche grazie a Marte unite gentilezza e fermezza di intenti cercate nuove forme di relazione di amicizia rinsaldando contatti vecchi e iniziandone di nuovi Pesce ispira un'altra aria intorno a voi più mete per molti versi molto più serena questo dimostra che spesso i problemi non sono insormontabili e la vostra immaginazione è a ingigantire le avversità mentre invece basterebbe così poco a debellarle e la vostra immaginazione è a ingigantire la vostra immaginazione è a ingigantire grazie a tutti